Comunque troppo tempo sotto la doccia fa male alla pelle Io mi lavo un massimo in 4 minuti Mi sembra che io abbia problemi di pelle Io sono giovane a differenza tua Bro guarda che ti ho sparato proprio in faccia Non ho capito perché non ti sia bene E' solo 3 anni meno di me 3 anni di pelle migliora I piedi nella fossa li stai per mettere da tu Cos'è una minaccia questa? Niente ragazzi ultimamente una chat di vecchi Zubacchi, Nox, che gente Dude, questo fight va apprevisato tantissimo Non spizzi, hai visto? Non troppo scarsa ma no Con le nostre strat vai tranquilla che anche un piccione viaggiatore finisce una nobessa Mi hai dato del vecchio Mark? Esattamente, si Oh no Niente scusatemi, è morto Spotify perché volevo cambiare la canzone tramite il telefono Vabbè La mia mira non è scarsa Fate zitti Chat di merda Then only for a minute Si minimizzerà il gioco Mi sei scoppiato dentro al cuore Mark, ti piace mica il pene? Cosa? Solo quarto shot Nox? Nox Prendi un pad e gioca a questo gioco Che dici? Ti va? Non ho pad in casa Guarda, te lo compro io Giuro Fai una lista desideri Amazon Ti compro un bel pad E poi ti voglio vedere fare questo gioco Noit Pad Xeox Cos'è? Respira Pad Xeox Respira Mi sei scoppiato dentro al culo Oh no That's not good Family friendly by the way Dentro al cuore Per expira Cosa c'è? Sì Anche il signor Nox Sì Ma solo per i momenti con l'arco Cheater Ma che è tutto sto casino fuori da casa mia? Ragazzi Ma io devo uccidere dei bambini e delle persone In game Si intende? Sorry Benvenuto nel gioco Grazie Lo so Gentilissimo Dude Dude What the fuck? No bro Oh shit Mi fa male il cuore Non mi era mai successo di aver uscito da lì No E' sempre una prima volta I guess Come fai solo con la tastiera? Cambia le visuale attacchi con le frecce? Cambia visuale con le freccette Ah Non credevo Che schifo E' sempre più brutta questa storia Nox Secondo me ti devi far operare Più ti sento parlare di questa Più ti sento parlare di questa cosa Più sono sicuro che ci sia qualche problema A livello neurologico Si no ci sono dei problemi Forti Ma sentite sto casino Boys Ma incredibile Dudu per favore Dudu per favore Pato Ma come è possibile? Ma ogni tanto io prendo contro un muro Rollando appena esco dai posti Ma non riesco a capire Come Bro Non ci credo Ma perché il gioco mi vuol far perdere tempo Incredibile Dì Giocano GØ a non sono sicuro di aver preso il checkpoint effettivamente non è che serva a granché prendere il checkpoint in una una permadez però in the end no crawling ha detto che gioco which game devil my cry ok Grazie. Guarda che non è una buona idea, Zubate. Il fatto è che non importa quanto a lungo giochi un gioco, ci sono dei giochi che si prestano di più ad una no hit rispetto ad altri. Devil May Cry non è un gioco che si presta ad una no hit. Probabilmente si presta anche meglio ad una no damage, però non è quello che stavo intendendo. No, non è diventata easy, per un cazzo. Rimane mezza impossibile in realtà. Un anno hit? No, un anno da sì. Ecco, già quello è più probabile. Ah sì, scusami, non l'avevo letto da parte prima. Beh, se vuoi, puoi. Diciamo che le no death sui giochi che non sono souls, non vengono proprio tante contate dalla nostra community. Ho trovato l'albero rossa. Per la connessione, credo, Nox. Dato che ti vedo confuso. Dude. Albe... Albe... Albelro? Al... cosa sta succedendo? Albe... Albelro? Alberlo? Alberto? Confuso Ma c'è un fottuto uccello morto Vabbè ma capita Che amante della natura Wailord Wailord ama due cose nella vita I coltelli da lancio E la natura È il mio Aiaia Aiaia Chat back me up Aiaia Please Someone aiaia with me Nessuno che mi Che fa iaiaia Dai bastardi Rocco Vabbè Morte da gravità Reset Scusami Non credo si possa morire da gravità Forse si Forse c'è qualche sezione dove Non credo No non penso Maybe Not sure Non avendo giocato tutto il gioco È difficile dirlo Grazie Rit Almeno tu Bonk 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 Sono vivo Sono vivo Sei vivo Sei vivo Di fianco al mignolone No era proprio sopra di me quello Senza se e senza ma Un altro pv1 all'ultimo boss Non potrei reggerlo Non potrei Non potrei Ehi 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 Dai Tansons Soitra Ha 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 Ah yes Fucking finally Sono stati due giorni molto strazianti 16 minuti Dove cazzo sarò in classifica? Molto in basso Però cazzo 16 minuti sono pochi Ho fatto un sacco di errori anche Anche dal fondo Sedge bravo Ma come sedge bravo? Va bene ragazzi Sarà caricata su youtube anche questa Eee Un insulto gratis alla gente di youtube E' estate fa caldo Capisco che nessuno abbia voglia di passare in live a scrivere Però potreste almeno venire a lurcare Quindi andatevene un po' a quel paese Ma guarda che Nox ha scritto GG ancora prima che io avessi ucciso il boss Volevo un attimo Far te lo sapere Fanculo youtube Fottetevi bastardi di youtube Ciao youtube 13 utilizzazioni 0 morti Per my death 16 e 48 E adesso Devo fare alt f4 Perché altrimenti Mi fa ripartire in gioco E quindi non mi salva il tempo Fucking love this There you go There you have it There you go